Per noi è una cosa molto importante questa partnership perché significa collaborazione che già da tempo è assolutamente sviluppata tra molti professionisti del Gasline e del Galliera ma significa sistema, significa continuità, significa scambio di competenze, crescita attraverso protocolli, linee guida e quindi in una parola significa maggiori garanzie e maggiori servizi per il bambino e la sua famiglia nel passaggio dall'età pediatrica all'età adulta. I termini pratici partiranno tutta una linea, una serie di linee di attività, di prestazioni, di consulenze, di servizi coordinati e pianificati insieme tra i professionisti del Galliera e del Gaslini per garantire la presa in carico migliore e continua del paziente pediatrico che diventa adulto.